Bella Bali, eh? Ci piace! Qua c'erano tutti i fame. Speriamo di trovare da mangiare perché la salita è impiedosa. Siamo a 800 metri, tempietti dappertutto, verdeggianti risaie, toscaglie, palme, cocco e salita. La puoi fare, credici! Il Pantani del Terzo Milagno! Ciclista italiano, di Italian Cyclist. Te lo consiglio, te lo ho diviato. Questo si chiama Sciacquavalle. Il Pantani del Terzo Milagno! Gli Raffa Grazie a tutti. Grazie a tutti.